Finora l'unica banca dati che abbiamo avuto è stato il mio sito internet, angelinoalfano.it, è stata la casa di questi 5 o 6 giorni e quando martedì, lo ricordo benissimo, ho chiesto a Davide, l'uomo che per mesi è sempre occupato del web, che continuava a dirmi guarda che stai ricevendo un po' di adesioni e un po' di consenso sul tuo sito, voi sapete che per scrivermi al sito è necessario andare lì, trovare la stringa per scrivermi, insomma è un esercizio, non è una roba immediatamente fattibile per chi non abbia un po' di competenza. Bene, quando lui mi ha detto guarda che ti stanno arrivando un po' di adesioni, stanco del fatto che lui continuasse a ripetermelo, gli ho detto stampamele, stampami le adesioni. E' arrivato con un libro così, di mail, di consiglieri comunali, di assessori, di gente che si era stancata di fare politica e per cui noi vogliamo anche rassicurare tanti amici che ogni giorno ci attaccano da quella che è la nuova Forza Italia dell'amore. E cioè, state sereni, state sereni, tante persone stanno aderendo al nuovo centro-destra proveniendo da un'area che non è quella del nostro movimento politico, proveniendo dall'area degli astenuti, del non voto, di altri partiti di area moderata e questa sarà la nostra forza. Noi vorremmo che fosse chiaro a tutti che il nuovo centro-destra sarà quel valore aggiunto che farà vincere la coalizione alternativa alla sinistra.